Ti farò fremere da Morata al punto da far... impallidire persino Rodolfo Valentino. Volta a sinistra. No, problema. Mierò. Va bene se hai congedato, ora tocca a me. Ma signor Banzi, lei è esausto. Sì, ma ho un piccolo segreto. Ho rimediato un raro afrodisiaco potentissimo. È stato ottenuto dal marsupio di una volpe marsupiata, animale esistito per tre settimane nel XVI secolo. Oh, ci vediamo domani sera. È vola! Papi, è stato stupefacente. Spero che i ragazzi non abbiano sentito. Wow!